il viene registrato questo tavolo di lavoro come tutti quegli altri anche i precedenti futuri che verranno fatti la metteremo poi a disposizione sia sul sito sulla pagina youtube del del parco nazionale che nella sezione video del sito della riserva di biosfera quindi andando su www.mabappennino.it dal menu si accede alla sezione video quindi metteremo lì la registrazione di questo di questo tavolo quindi potete poi se avete bisogno vi mandi link in ogni caso è se poi avete bisogno di dire grazie alla insomma prego buongiorno anna ben arrivata eccoci buongiorno ciao buongiorno aspettate sono le tre giuste giuste aspettiamo due minuti ancora a vedere se si arriva qualcun altro grazie a tutti grazie a tutti chiara scusami mi stanno scrivendo un po' di persone che chiede la passcode ah sì te la metto te la metto su whatsapp te la mando per whatsapp sì grazie sì grazie 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 Grazie. La Marianne è arrivata. Mi ha appena scritto anche lei che ha bisogno della passcode, per cui ho appena girato a Raffaella quello che mi ha girato Chiara. Quello che devo accordire. Noi che non siamo andati a consiglio del parco, per vali motivi. Dai che dovremmo essere quasi fuori da questo tunnel pandemico. Io ci sono dentro a pieno, quindi. Immaginato, ho immaginato però. Va bene comunque, mi sembra, no? Sì, sì. A parte questo isolamento carcerario, è una cosa che si gestisce. Mi metto in interessante anche queste assemblee consultive. Bene, quindi utilizziamo il tempo in modo proficuo. Esatto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. si occupa di queste tematiche quindi sarà lei a moderare l'incontro che è uno il terz'ultimo di questi tavoli di lavoro quindi Anna non so sono le 3 5 se vuoi che cominciamo lasciate la parola come moderatrice del tavolo dimmi tu Chiara sai tu se stiamo aspettando ancora qualcuno se intanto partiamo dimmi tu possiamo possiamo partire se vuoi guarda bene grazie dell'introduzione intanto volevo presentarvi le altre persone con cui sono qui io sì sono l'architetto Anna Agostini faccio parte di appunto del team di Punto 3 SRL che immagino conosciate più nelle persone magari di Filippo Lenzerini che vi accompagna da tanto tempo e sappiete che lavoriamo per il supporto delle riserve della biosfera soprattutto in fase di gestione e pensiamo che questo delle comunità energetiche possa essere uno strumento operativo molto interessante per poter dare seguito anche ad alcune delle indicazioni che fanno parte del vostro piano di azione non sono qui sola sono qui insieme ad altre due rappresentanti di altre due organizzazioni con cui stiamo sviluppando progetti proprio specifici sulle comunità energetiche Alessandra Montonelli di Sinloc che vedete lì che cura per questa fase di appunto di approfondimento delle comunità energetiche la parte economico finanziaria di reperimento anche delle notevoli opportunità di finanziamento che si aprono nel prossimo periodo e Daniela Patrucco di Energy4Com che invece proprio nella parte tecnica di rendicontazione e di analisi dei fabbisogni energetici ma anche di ottimizzazione di queste necessità energetiche hanno il loro focus è un tema quanto mai attuale non solo per l'aumento incredibile delle bollette che c'è stato in quest'ultimo periodo ma anche proprio per temi come quello della indipendenza energetica ma anche come gli impatti che un certo tipo di utilizzo dell'energia hanno sul territorio su la produzione di CO2 e anche proprio su le possibili alternative più sostenibili che ci sono al momento questa delle comunità energetiche è un'opportunità che si apre grazie ad una normativa che ne apre alcune possibilità proprio burocratiche ma anche grazie a un supporto un sostegno che anche il governo centrale dà sulla parte operativa poi di realizzazione l'obiettivo dell'incontro di oggi era non solo presentarci e quindi capire come vi potremo accompagnare nel prossimo periodo proprio perché con l'incontro di oggi parte un approfondimento che si realizzerà sul territorio del parco e che arriverà non solo a mappare le possibili comunità energetiche ma anche a approfondirne in due casi pilota alcuni focus e quindi arrivare a definire proprio le possibili operatività che in due casi pilota complementari e sinergici insomma potrebbe proprio concretizzarsi nel vostro territorio quindi se mi è possibile condividere lo schermo io vi sì Anna poi sei abilitata perfetto lo vedete sì 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 benissimo vi mi aiuterai appunto con questa presentazione che poi vi possiamo tranquillamente dare questo incontro fa seguito un incontro di introduzione che avevamo fatto a fine gennaio mi pare il 25 gennaio non so se molti di voi erano già presenti comunque molti dei temi che avevamo introdotto all'epoca li vogliamo riproporre proprio per creare un orizzonte comune un contesto comune e poi volevamo proprio andare nel dettaglio della operatività che si realizzerà a partire da oggi insomma anche con un momento di discussione che vorremmo già nel workshop di oggi intraprendere infatti i tavoli di lavoro dell'assemblea consultiva della riserva della biosfera ci sembrano il luogo migliore non solo per avviare questo discorso ma anche proprio per cominciare a ragionare anche in termini operativi anche raccogliendo i vostri stimoli vostri contributi su la mappatura su poi i due focus che si svilupperanno quindi i tre temi che andremo a toccare oggi sono chi siamo quindi raccontarci un po anche nelle competenze e nelle attività che vi che realizzeremo a supporto della del vostro territorio spiegare un po le tematiche delle comunità energetiche rinnovabili ma anche soprattutto le opportunità che si aprono anche e soprattutto in territori come quello dei parchi e delle riserve della biosfera che sullo sviluppo sostenibile hanno un po fatto la sfida della loro la sfida competitiva del loro sviluppo futuro quindi questo progetto che è in partenza proprio con l'incontro di oggi e che si svilupperà in due mesi che quindi con tutta probabilità prima dell'estate avrà un altro incontro come questo per presentare un po gli esiti di questo progetto vorremmo presentarvelo nelle attività e anche nei risultati attesi insomma quindi cominciando appunto ad approfondire un po le tre realtà che compongono le attività che svilupperanno le attività di questo progetto appunto punto tre lo conoscete si svilupperà per un territorio su cui lavoriamo su vari fronti un approfondimento partecipativo quindi ci piacerebbe che già oggi potesse essere un momento di confronto allargato quindi non solo di presentazione ma anche proprio di raccolta degli stimoli dei contributi che possano venire da chi è attorno a questo tavolo virtuale e crediamo che questo delle comunità energetiche possa essere un tema molto importante proprio per la mitigazione e l'abbassamento degli impatti dell'attività antropica in territori sensibili come quelle delle riserve della biosfera e sapete lo affrontiamo in diversi ambiti con l'inclusione della delle comunità che abitano i territori ma anche con sviluppo di progetti di gpp lca carbon footprint rsi certificazioni ecologiche e eventi sostenibili e green marketing quindi il ciclo di vita del dei prodotti ma anche appunto attività di responsabilità sociale di impresa di prodotti sostenibili e questo delle comunità energetiche ci sembra un ulteriore strumento di cui i territori possono usufruire per questo loro percorso verso lo sviluppo sostenibile. Sinlock appunto una società di investimenti e consulenza che sostiene progetti di sviluppo di innovazione proprio trovandone gli strumenti che possano dare gambe alle idee quindi sul territorio nazionale cerca di appunto mettere in relazione le esigenze con le potenzialità anche finanziarie economiche che si aprono. Energy for com invece appunto è un team di professionisti che si occuperà della parte più tecnica di questo progetto proprio perché hanno importanti esperienze nel settore della transizione ecologica, dell'innovazione energetica e nelle energie sostenibili in particolare. In questo contesto vi dicevo prima in cui un'economia climaticamente neutrale diventa centrale per la questione legata alla transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile che compongono l'agenda 2030 e anche la transizione che vuole arrivare al 2050 con una impostazione totalmente diversa da quella attuale. Ecco, le comunità energetiche pensiamo possano dare uno strumento proprio innovativo, inclusivo e molto efficace anche in tempi brevi per riuscire da una parte a ridurre i consumi, dall'altra a cambiare la fonte da cui, la fonte energetica proprio che i consumi attualmente su cui si sostengono. Quindi passare da un'energia che molto spesso insomma viene generata da fonti fossili a un'energia generata da fonti rinnovabili e autoprodotta. La grande novità delle comunità energetiche che dopo vi racconteremo meglio in dettaglio è proprio quella che vede i consumatori di energia, quelli che oggi sono i consumatori di energia, diventare prosumer, quindi da una parte produttori, dall'altra consumatori di energia. Questo abbassa tantissimo non solo le spese ma anche gli impatti del trasporto dell'energia e mette in valore tutta una serie di superfici, di tetti e tutta una serie di relazioni che si possono creare proprio per far sì che questa idea possa diventare realtà attraverso l'attivazione di una comunità. Ecco in questo contesto quindi nel momento in cui l'uso delle fonti energetiche può diventare collettivo e può creare una comunità, proprio l'attivazione di questa comunità è fondamentale. È per questo che abbiamo voluto iniziare proprio da un incontro come quello di oggi in cui le prime fasi di avvio di questa attività sono non solo condivise con tutta la comunità, quindi con l'Assemblea della Riserva della Biosfera, ma anche proprio focalizzate negli ambiti territoriali e nelle necessità anche con il contributo dei rappresentanti dei territori. Quindi vi ringrazio un'altra volta per essere partecipi a questa riunione e presenti intorno a questo tavolo e vi chiedo proprio nella parte finale dell'incontro di partecipare attivamente a questa discussione alla luce di tutte le questioni che introdurremo nella presentazione proprio per innescare una discussione che possa avviare questo percorso focalizzando bene le necessità e le potenzialità del territorio. Naturalmente il piano nazionale di ripresa e resilienza dà degli strumenti in più in un quadro finanziario pluriannale che è quello del 2021-2027 che vede proprio nella indipendenza energetica e nella transizione ecologica verso le fonti di energia rinnovabile uno degli asset di valore primari. Quindi inizieremo condividendo un quadro normativo che adesso sta dalla direttiva europea diventando sempre più applicativo nelle realtà territoriali, regionali e locali e anche proprio all'interno delle varie programmazioni sta trovando degli strumenti di sostegno alle attività che possano appunto trovare delle strade di supporto economico finanziario che possano far sì che non sia un investimento inaffrontabile ma anche che anzi che sia subito un ritorno in termini economici ma anche soprattutto in termini di riduzione dei costi, di riduzione degli impatti e di approvvigionamento energetico più sicuro e più economico. Lascio la parola a Daniela che approfondisce un po' le questioni che sono state introdotte dandovi anche delle indicazioni non solo normative ma anche operative e del contorno in cui si muovono le comunità energetiche e lascio la parola a lei proprio per approfondire questi punti. Grazie Anna, buonasera a tutti e ringrazio a mia volta per l'opportunità. Dunque le comunità energetiche sono introdotte a livello normativo in Italia come recepimento di due direttive europee rispettivamente del 2018 e del 2019. Il percorso di recepimento è stato avviato nel 2020 con il decreto mille proroghe, è ancora in corso, abbiamo avuto però un primo step con il recepimento provvisorio per l'appunto e una normativa che cominciava a dare qualche indicazione per poter lavorare intorno alle comunità energetiche. Ora siamo in attesa del recepimento definitivo della normativa che amplia un pochino, rende diciamo più agevole la costituzione di comunità energetiche. Aspettiamo che entro l'estate siano pubblicati i decreti attuativi e le nuove regole tecniche in modo da poter entro la fine dell'anno procedere con una diciamo normativa stabile e utile a realizzare comunità energetiche che non siano diciamo solo esperimenti che è un pochino quello che stiamo facendo. Come diceva Anna nel frattempo come dire in questo percorso si è inserito il PNRR e questo ha fatto sì che come dire anziché attendere appunto l'evoluzione e la definizione della normativa si sia cominciato a ragionare in termini di progettazione, di progettazione di area vasta che è infatti quello che noi stiamo facendo con diversi altri gruppi di comuni in Italia ed è anche la proposta che facciamo a voi. Dunque scusanna se possiamo andare nella slide successiva quindi che cosa sono le comunità energetiche l'abbiamo già un pochino anticipato sono un insieme di soggetti che condivide la produzione e il consumo di energia elettrica da fonte rinnovabile. La cosa interessante delle comunità energetiche è che mentre fino al punto febbraio del 2021 ciascuno poteva produrre e consumare la propria energia ma non condividerla con nessun altro è interessante perché invece con questo recepimento della direttiva europea abbiamo introdotto addirittura un incentivo invece per la condivisione dell'energia che infatti ha molto senso perché come dire anziché dal punto di vista anche economico realizzare un impianto di cui si consuma solo parte dell'energia e l'altra viene immessa in rete ha poco senso quando nelle vicinanze dello stesso impianto potrebbero esserci soggetti invece interessati a consumare quella stessa energia. Ecco con le comunità energetiche questo diventa possibile, diventa possibile determinando dei risparmi economici naturalmente in bolletta perché oltre all'autoconsumo di chi ha l'impianto collegato direttamente al proprio contatore, abbiamo anche l'incentivo sull'energia che viene condivisa con la collettività, abbiamo degli impatti ambientali positivi perché appunto in ragione di questo vantaggio economico viene incentivata la realizzazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile, abbiamo anche diciamo un significativo impatto positivo sulle reti di distribuzione, in particolare sulla rete di trasmissione nazionale perché appunto bilanciare a livello locale la produzione e il consumo di energia come dire in qualche modo solleva la rete di distribuzione e quella di trasmissione da un super lavoro ad esempio nella gestione dei picchi energetici. Inoltre tutto questo può comportare un vantaggio anche economico per le comunità locali tant'è che in particolare le comunità energetiche vengono finanziate già nel PNRR come dire in particolare quando si trovano nelle aree interne, nelle zone montane, piuttosto che in comuni sotto i 5.000 abitanti spesso a rischio di spopolamento nell'ottica di come dire dare l'avvio a nuove attività che possano produrre nuovo lavoro e nuove economie locali. Dunque in questa slide rapidamente gli aspetti un pochino più tecnici della normativa. Allora la normativa consente di realizzare N impianti per ogni comunità energetica con una potenza singola massima di un megawatt. Quindi una comunità energetica può avere più impianti di energia a fonte rinnovabile se per caso per semplicità io parlerò più che altro di fotovoltaico. Sappiate però che quando parlo di energia da fonte rinnovabile intendo indifferentemente energia idroelettrica, eolica, da biomassa piuttosto che appunto fotovoltaico. Quindi un megawatt è la dimensione massima dell'impianto ma possono esserci più impianti. La comunità energetica invece può avere un perimetro, un'espansione territoriale pari a quello della cabina primaria, la cabina primaria di distribuzione, che vuol dire che ad esempio in un'area come la vostra la cabina primaria potrebbe comprendere magari fino a 15.000 utenze. Quindi noi potremmo ipotizzare comunità energetiche sovracomunali. In ogni caso la comunità energetica non è, come dire, non è vincolata ai limiti amministrativi. Quando anche comunque dovessere, dovesse esserci una eh comunità locale composta di più comuni che volesse fare una comunità energetica più ampia della cabina primaria non è un problema, come dire, gestire all'interno della stessa comunità energetica più cabine primarie. Scusa se puoi tornare ancora indietro un attimo? Ok. Quindi chi partecipa alla comunità energetica? La comunità energetica possono partecipare privati cittadini, piccole e medie imprese, enti locali che anzi sono sollecitati a partecipare alle comunità energetiche e anzi a promuoverle, istituti di ricerca, enti non profit. Diciamo che praticamente chiunque, qualsiasi azienda, anche nel nuovo, nel nel ricepimento definitivo, anche grandi aziende potrebbero partecipare alla comunità energetica, a condizione che queste ultime non detengano il controllo della comunità energetica stessa. Questo è il il vincolo per le grandi aziende. Lo stesso vincolo è valido anche per le aziende che hanno codice a teco che si riferiscono all'ambito energetico. Proprio perché una comunità energetica nasce per essere un soggetto giuridico senza scopo di lucro e quindi, come dire, il più possibile partecipato dal basso. Grazie Anna. Dicevamo che sono incentivate le comunità energetiche. Allora, per vent'anni, una volta costituita la comunità energetica, questa può beneficiare di incentivi sull'energia che la stessa immette in rete. Vi faccio un esempio per dire questo perché forse è più semplice. ipotizzando che un comune installi un impianto fotovoltaico sul proprio edificio, sulla sede del comune, che cosa succederà di questa energia? Che parte viene consumata istantaneamente dall'edificio. Un'altra parte invece viene immessa in rete. Se questa parte di energia che è immessa in rete viene contestualmente consumata, cioè la stessa quota di energia viene consumata dai membri della comunità energetica, la comunità energetica nel suo insieme ottiene un incentivo. Allora, tutto questo che sembra un po', come dire, complicato, in realtà è molto semplice perché la comunità energetica è nei fatti un'aggregazione virtuale, cioè non è necessario tirare nessun filo, nessuna, nessune reti nuove. Si comunica semplicemente al GSE quali sono gli impianti che producono e quali soggetti che consumano e quindi, come dire, per l'energia consumata nella stessa fascia oraria, viene riconosciuto questo incentivo. Oltre all'incentivo viene restituita una quota parte degli oneri di sistema, appunto perché l'energia non è trasmessa sulla rete di trasmissione nazionale. In più, viene riconosciuto un valore per il totale dell'energia immessa in rete. Se andiamo alla slide successiva, chiariamo subito quali sono i valori in ballo. Quindi, stante un impianto fotovoltaico, noi abbiamo un impianto di produzione, noi abbiamo la quota di autoconsumo che abbiamo, come dire, stimato in 250 euro al megawattora, immaginando il costo dell'energia a 25 centesimi al kilowattora, che è quello che pagavamo prima di tutto questo momento di turbolenza. Dopodiché, appunto, come dicevo, l'energia immessa in rete viene valorizzata a 50 euro al megawattora, oltre a 110 euro al megawattora, invece, per l'energia condivisa, cioè prodotta e consumata istantaneamente, e a 9 euro al megawattora di restituzione degli oneri di rete, sempre per l'energia prodotta e consumata istantaneamente. Quindi questo è l'insieme dei benefici che si hanno nell'installazione di un impianto di energia a fonte rinnovabile, inserito all'interno di una comunità energetica. Possiamo andare avanti, Anna? Quindi, altre caratteristiche della comunità energetica, appunto, qualcuno le ho già anticipate, l'energia viene condivisa solo virtualmente, quindi non bisogna fare nuove infrastrutture. La comunità energetica è un soggetto giuridicamente autonomo, dove tuttavia i partecipanti mantengono i loro diritti come clienti finali. Questo vuol dire che chiunque continua o può continuare a scegliersi il suo fornitore di energia, intanto, a pagare la sua bolletta, indipendentemente da ciò che fa il resto degli altri membri della comunità energetica, tenuto conto del fatto che gli incentivi vengono riconosciuti, appunto, alla comunità energetica. La proprietà degli impianti può essere di soggetti terzi, cioè può essere che una comunità energetica come soggetto giuridico decida di realizzare e finanziare gli impianti, ma può essere anche che ciascun soggetto membro della comunità energetica si finanzi il suo proprio impianto e metta a disposizione l'energia non autoconsumata, così come può essere che la comunità energetica decida di far finanziare gli impianti da terzi, ad esempio una ESCO, e poi metterli a disposizione della comunità energetica. È ovvio che se gli impianti della comunità energetica sono finanziati da una ESCO, come dire, questa si terrà un po' di margine e quindi ridurremo in questo modo il vantaggio per la comunità energetica, ma direi che questo va da sé. È possibile, ecco, gli incentivi vengono riconosciuti solo sugli impianti nuovi, cioè realizzati dopo il 28 febbraio del 2020. Questo perché naturalmente, come abbiamo detto in apertura, le comunità energetiche tendono a favorire la realizzazione di nuovi impianti. Tuttavia, sarà possibile includere all'interno della comunità energetica impianti preesistenti, purché non superiori al 30% della nuova potenza installata. Questo è un dettaglio tecnico che però, come dire, quando le comunità energetiche saranno avviate, ci consentirà di aumentare la produzione di energia che viene incentivata. Grazie Anna. Quali sono quindi gli impatti socio-economici? Diciamo che le comunità energetiche hanno come loro fine, sì, quello della produzione di energia da fonte rinnovabile, ma soprattutto quello di determinare impatti socio-economici, non a caso fanno parte, come dire, di tutto l'impianto del recovery plan, ma, dicevo appunto, quello di determinare benefici socio-economici ambientali per i territori. Questo vuol dire, in prima istanza, naturalmente, ridurre il costo dell'elettricità e incrementare l'offerta di ulteriori servizi di pubblica utilità. Mitigare la povertà energetica, quindi i comuni che ora erogano il bonus energia, potranno, contribuendo alla realizzazione di impianti fotovoltaici e la realizzazione di comunità energetiche, ridurre il costo delle bollette, in questo modo contrastando la povertà energetica, anche senza che ci sia bisogno di, come dire, erogare i bonus energia. Combattere il fenomeno dello spopolamento, lo dicevo prima, perché, come dire, la comunità energetica è anche un'occasione di lavoro per artigiani, professionisti, imprese e comunque per le aree interne ridurre il costo dell'energia elettrica, anche dopo che abbiamo sperimentato in questi due anni tutto il, come dire, il tema dello smart working, può essere un modo per rendere più attrattivo, appunto, questi territori. Inoltre, partecipare a una comunità energetica e, come dire, poter fare i conti con l'energia a disposizione aumenta la consapevolezza e la cultura energetica dei cittadini. È noto che chi ha realizzato un impianto fotovoltaico finisce per consumare meno energia di chi non ce l'ha, perché, come sempre, come dire, se abbiamo un termine di riferimento, come dire, una bottiglia di acqua sul tavolo oppure un rubinetto aperto, come dire, anche istintivamente uno fa i conti con quello che ha a disposizione, e quindi tende a risparmiare. Inoltre, realizzare comunità energetiche aumenta, alimenta la comunicazione e il marketing territoriale, quindi eventualmente migliorando la sua attrattività e, appunto, come dicevo prima, sviluppa l'economia locale anche attraverso, scrivevamo, attraverso il mantenimento dei profitti sul territorio, perché, in realtà, quando noi acquistiamo l'energia all'esterno, che può essere sia in Italia, insomma, fuori dal nostro territorio, noi stiamo, in qualche modo, spostando ricchezza in altri ambiti e in altri ambienti. Possono essere anche privati, possono essere italiani piuttosto che no, lo vediamo con l'acquisto del gas, ad esempio, se anziché comprare il gas in Russia, piuttosto che pagare la bolletta all'Enel, noi abbiamo i nostri impianti nel nostro comune, è evidente che tutta quella ricchezza lì resta lì e non viene, come dire, destinata altrove. Quindi anche questo è un aspetto interessante da considerare nella valutazione della realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, ma anche nell'implementazione di comunità energetiche. Comunità energetiche, passerei alla prossima slide e intanto passo anche la parola alla collega Alessandra Montanelli, che vi racconta come funziona il processo di attivazione di una comunità energetica. Grazie. Scusate se interrompo, approfitto del passaggio di consiglio, un attimo c'era Robertino Golotti che aveva alzato la mano, non so se ha una domanda adesso o se ha tempo di aspettare dopo, non lo so. No, aspetto dopo perché probabilmente dà la risposta già nel prossimo momento, cioè nei prossimi interventi. Però, cos'è, non lo faccio alla fine, grazie. Grazie. Perfetto, grazie. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Passiamo infatti ora a questa illustrazione per quel che riguarda appunto il processo di attivazione delle comunità energetiche, che avrete capito essere uno strumento che viene messo appunto a disposizione adesso anche dal nostro ordinamento, che può apparire magari in prima istanza complesso, se non altro perché richiede l'integrazione di varie competenze. Quindi sicuramente delle conoscenze da un punto di vista tecnico, da un punto di vista economico, ma anche di attivazione e quindi del coinvolgimento attivo di quelli che sono i cittadini e in generale gli stakeholder del territorio. Dall'altra parte, le comunità energetiche sono uno strumento anche molto flessibile, che si presta, cioè ad essere anche adattato e plasmato secondo quelle che sono le caratteristiche stesse del territorio, dell'area dove vogliono andare ad insistere, per poter attivare proprio quella serie di impatti che vi illustrava giustamente Daniela poco fa. Proprio dalle caratteristiche del territorio dovrebbe, secondo quella che è un po' anche la nostra esperienza che stiamo maturando nell'assistere diverse amministrazioni, proprio dicevo da quella che è l'analisi del territorio, dovrebbe partire la prima fase per la costituzione delle comunità energetiche. Quindi una fase che potremmo definirla di progettazione, che dovrebbe andare quindi ad identificare quelle che sono le opportunità dal punto di vista dell'installazione di nuova produzione da fonti rinnovabili, che abbiamo detto essere un po' il fulcro su cui si basano per l'appunto le comunità energetiche, cercando di capire come questa produzione possa andare a bilanciarsi con quelli che invece sono i consumi. Quindi un'analisi molto attenta di quelle che sono le caratteristiche di consumo degli utenti del territorio, siano questi utenti, come abbiamo detto, privati, quindi cittadini, utenti pubblici, quindi magari edifici afferiti alla pubblica amministrazione, piuttosto che magari delle attività delle piccole e medie imprese, ovvero delle altre organizzazioni anche no profit che sono presenti sul territorio. Quindi ecco, qui già da queste informazioni riusciamo ad identificare quello che può essere il perimetro della comunità energetica, premettendo che poi questo che nel tempo si può andare a devolvere. Quindi ecco, sarà molto importante in questo senso mantenere, cercare di mantenere sempre più possibile il bilanciamento tra questi due flussi. Sempre in una fase di progettazione, un altro elemento è costituito da quella che è la parte di quantificazione dell'investimento, quindi degli aspetti più, diciamo così, economico-finanziari, di strutturazione dell'iniziativa e di identificazione di quelle che possono essere le fonti a copertura. Avremo modo di approfondire giusto tra un attimo quelle che sono le diverse opportunità, comunque già citate anche dalle colleghe, che appunto come detto ad oggi rappresentano un'importante novità sul panorama nazionale, nonché appunto un'opportunità, ma se vogliamo una sfida da cogliere. Una volta quindi definiti quelli che sono gli interventi, gli investimenti, le modalità di copertura, è chiaro come debba andarsi poi a costituire sicuramente il soggetto giuridico, quindi vanno fatti degli approfondimenti che riguardano la struttura di governance e in tal senso va un po' di pari passo ovviamente la parte di percorso partecipativo, perché è molto importante in questa fase andare a raccogliere quelle che possono essere le adesioni da parte degli utenti appunto che andranno poi a costituire la comunità energetica stessa. In tal senso per gli utenti sarà importante anche andare a stimare quelli che sono gli impatti da un punto di vista, come vedevamo, sociale, ambientale ma anche economico che potranno avere dall'adesione, dalla loro stessa partecipazione alla comunità energetica e come quindi questi vorranno essere ripartiti all'interno di questa configurazione. Perché per l'appunto la comunità energetica è un soggetto giuridico a sé stante e quindi appunto arriviamo alla fase 2 in questo modo, che riguarda proprio l'attivazione del soggetto CER, come l'abbiamo chiamato qui, quindi comunità energetica rinnovabile. Una volta che questo soggetto è stato istituito, si attiva la terza, se vogliamo, ed ultima fase, che però è una fase continua, che riguarda proprio la gestione e il monitoraggio di quelli che sono i flussi, flussi da intendersi in termini sicuramente economici, ma in prima battuta energetici, tra i vari utenti della comunità. Perché appunto, ricordiamo, è possibile che il perimetro che è stato magari definito in una fase iniziale si evolva nel tempo. Quindi è possibile prevedere l'inserimento di nuovi utenti, nuovi impianti, ma anche la loro fuoriuscita. Quindi, capito, una pianificazione che parte sicuramente da, se vogliamo, dal piccolo, in aree vaste magari è identificato quello che potrebbe essere un progetto pilota, ma al fine è quello di andare a coinvolgere, quindi di proporre una pianificazione strategica che possa veramente andare a coinvolgere un numero elevato di utenti e che in particolare si voglia rivolgere all'area vasta. Questo diventa importante, grazie Anna, per anche la parte di pianificazione economico-finanziaria, per una questione di scala e per una questione di accesso per l'appunto alla finanza. È stato già detto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sicuramente offre, direi, una delle maggiori opportunità da questo punto di vista. Vi citiamo, perché sicuramente può essere, diciamo così, di interesse per il vostro territorio, questa linea che sicuramente conoscerete, la C2 investimento 1.2, promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo, che è in maniera specifica destinata ai comuni con un numero di abilitanti inferiore a 5.000 e per cui vengono destinati oltre 2 miliardi di risorse proprio per l'installazione di nuova produzione rinnovabile, quindi appunto, come diceva Daniela, fotovoltaico ma anche altre risorse, quindi qui lo studio, diciamo, attento, la valutazione attenta che deve essere fatta su quelle che sono le opportunità che offre il territorio, proprio da servire per la costituzione di comunità energetiche. Le risorse tuttavia non si esauriscono qui e quello che è importante, diciamo, forse teneramente, è che appunto non richiedendo le comunità energetiche particolari investimenti per la loro realizzazione, è importante anche ragionare in un'ottica, in una logica, se vogliamo, integrata, quindi cercando di valutare e sfruttare, passatemi questo termine, al meglio, anche altre opportunità. Faccio un esempio. L'installazione di pannelli totalmente fotovoltaici potrebbe anche essere coperta da altre tipologie di risorse, quindi è vero che il PNRR è un'opportunità, direi, unica, però è anche vero che sul panorama nazionale, ora abbiamo, quindi a livello italiano, abbiamo anche altre opportunità. E quindi faccio riferimento a quelli che sono i fondi regionali, per esempio, quindi c'è tutta la parte di nuova programmazione, quindi il quadro finanziario pluriannale 21-27, che sta andando a definirsi e da cui sicuramente alcune voci di spesa saranno proprio destinate alla parte di transizione energetico, comunque saranno previsti interventi proprio per la realizzazione di impianti rinnovabili. Recentemente, mi sembra, anche la Toscana stia muovendo i primi, per esempio, ma un po' tutte le regioni insomma italiane, i primi passi proprio verso la definizione del nuovo PORFESR, dove quindi oltre che fondi del PNRR andremo a trovare altre risorse proprio in questo senso. Lasciatemi anche citare, perché è un po' peculiare, diciamo così, il Fondo per la Progettazione Territoriale, che è un'altra opportunità che invece riguarda le spese per la progettazione, di iniziative che possono poi essere candidabili ai bandi del PNRR. Quindi, a differenza delle risorse di cui abbiamo parlato poc'anzi, questo fondo va a coprire le spese, quindi non tanto di investimento, quanto la fase precedente, quindi proprio la parte di strutturazione e progettazione. E per i comuni sotto i 5.000 abitanti, questi potranno spesare anche dei disturbi di fattibilità. Quindi ecco, è un'opportunità interessante che viene emanata dal Ministro per il Sud e per la Presidenza Territoriale, rivolta prevalentemente appunto ai comuni del Sud e delle aree interne, ma in generale anche a diversi comuni, insomma, un po' sparsi in tutta Italia. Quindi anche per i piccoli comuni è una bella opportunità. Anna, rilascio a te la parola. Sì, volevamo infatti nell'incontro di oggi, dopo aver fatto questa contestualizzazione che ci sembrava utile, insomma, ad avere un orizzonte comune rispetto a questo strumento e rispetto alle potenzialità soprattutto di questo strumento, volevamo già entrare nel merito del lavoro che comincia con l'incontro di oggi, dandovi un po' le specifiche tempistiche e anche operative delle attività che si andranno a svolgere e dei risultati a cui vorremmo arrivare appunto da qui a due mesi. Quindi innanzitutto save the date, salviamoci già la possibilità di rincontrarci prima dell'estate, quindi diciamo tra fine giugno e inizio luglio, per condividere i risultati di questa parte di analisi e per ragionare insieme proprio su come questa analisi potrebbe diventare operativa. Di che attività si comporrà questa analisi e a che risultati vuole arrivare? Allora, innanzitutto il lavoro che inizieremo appunto da domani in poi vuole dare degli strumenti operativi per arrivare a quegli obiettivi di sviluppo sostenibile che i territori parte della riserva della biosfera e ancora di più quelli parte del parco si sono dati attraverso il piano di azione e attraverso proprio gli obiettivi di gestione. Quindi innanzitutto si svilupperà un'analisi ragionata definendo alcuni ambiti territoriali, i possibili ambiti territoriali in cui sviluppare i ragionamenti delle CER attivabili partendo, come diceva Daniela, dalle cabine elettriche primarie quindi partendo da queste aggregazioni che potrebbero iniziare ad essere i riferimenti di un'analisi territoriale ma anche e soprattutto approfondendo le aggregazioni abitative e le specificità territoriali del territorio attorno a queste cabine a cui appunto si riferiscono. Quindi un'analisi che arriverà a definire i possibili ambiti di intervento nel territorio del parco e poi un approfondimento su due casi pilota da una parte appunto che comprendano soprattutto edifici pubblici e dall'altra invece che focalizzino su edifici e quindi anche iniziative private questi due approfondimenti in cui si svilupperanno due veri e propri casi pilota che potranno poi essere magari presi ad esempio per estendere il ragionamento a tutti gli altri territori. Quindi andando un po' in dettaglio delle attività che si realizzeranno in queste due fasi ci sarà una prima parte di inquadramento territoriale socio-economico che definirà proprio i caratteri di opportunità dell'attivazione dello strumento in alcune comunità e in alcuni territori proprio definendo negli ambiti territoriali. Quindi appunto il territorio sarà suddiviso in porzioni che possono diventare poi quindi i possibili ambiti territoriali di intervento all'interno dei quali attivare delle comunità energetiche. si geolocalizzeranno le cabine elettriche primarie e gli ambiti di afferenza proprio per cominciare a individuare delle aggregazioni territoriali in cui si può cominciare a ragionare. Si svilupperà poi una mappatura e georeferenzazione di alcuni elementi chiave come principali aree produttive proprio approfondendo la dimensione delle superfici coperte utilizzabili e la descrizione delle tipologie di attività perché da una parte ci danno dati sulla possibile produttività di queste aree proprio in termini di fotovoltaico ma anche appunto parliamo di questo tipo di energia ma come diceva Daniela in apertura le energie rinnovabili non è solo il fotovoltaico ovviamente il fotovoltaico ha un'applicabilità in cui è bene analizzare certi elementi potranno tranquillamente poter potranno venire presi in considerazione anche altri tipi di energie idroelettrico o eolico in particolare. Un secondo elemento chiave che andrà mappato e georeferenziato nel territorio in analisi sono gli immobili pubblici anche qui approfondendo le dimensioni delle superfici coperte utilizzabili e la descrizione delle tipologie di attività proprio perché il periodo di attività all'interno degli edifici è proprio uno degli elementi importanti per la definizione dei consumi di quell'edificio quindi per l'incrocio tra produttori e consumatori perché sapete, è stato già detto nelle slide precedenti sapete che il massimo vantaggio si trae nel momento in cui la produzione ed il consumo sono contemporanei quindi in cui la comunità energetica consuma tutto quello che produce. Quindi appunto un primo focus si ferà sulle principali aree produttive un secondo focus sugli immobili pubblici un terzo focus sulle filiere o risorse locali integrabili appunto con la produzione di energia quindi idroelettrico, biomassa, reclui agricoli dootecnici eccetera e loro obbligazione proprio per capire possibili sinergie anche con altri tipi di energia e sì mapperanno poi anche i principali stakeholder che possono rivelarsi chiave nel sviluppo di comunità energetiche da coinvolgere in modo attivo proprio per l'animazione per tutta quella parte di partecipazione che volevamo prima essere trasversale alle diverse fasi. Si integreranno poi i risultati delle analisi desk con le informazioni recepite attraverso tutti questi approfondimenti. In un'ultima fase quindi in un approfondimento specifico che svilupperà due casi pilota si individueranno scenari di bilanciamento delle comunità energetiche pilota si dimensioneranno parametricamente le comunità energetiche con la stima dei flussi economici e finanziari e un'ipotesi di redistribuzione degli incentivi e la stima degli impatti socioambientali che questo ragionamento può portare e si individueranno alcune modalità di finanziamento delle fasi di progettazione e realizzazione delle comunità energetiche per cui i risultati attesi da questo lavoro saranno principalmente due la prima appunto questa mappatura del territorio per ambiti in cui è possibile attivare questo ragionamento sulle comunità energetiche e due focus esemplari su un'aggregazione pubblica e su un'aggregazione privata in cui le comunità energetiche possono davvero attivarsi e diventare operative sarà naturalmente esemplificativo di un ragionamento che si può estendere ad altri ambiti che però già con un approfondimento specifico sul territorio dell'Apennino Toscomiliano può dare l'idea dei risultati a cui si può raggiungere e abbiamo preparato anche alcune buone pratiche diciamo di altri esempi realizzati in contesti simili per poter appunto vedere che non è solo teoria ma in alcuni contesti magari già più innovativi illuminati sono già pratica queste comunità energetiche mi fermerai però un attimo prima e magari ci ritorniamo se nel corso della discussione è utile vedere questi esempi insomma proprio per lasciare una parola lasciare proprio lo spazio a una discussione a una condivisione di punti di vista magari partendo da Raffaella, Mariani Anna scusami un attimo scusami se ti interrompo in chat scrivono vorrei segnalare che l'Unione dei Comuni della Garfagnana ha iniziato un percorso di valutazione di costituzione di CER tipo quella che stavo conducendo qui sarebbe bene non fare inutili doppioni questa è la suggestione che arriva dalla chat benissimo è uno degli argomenti che volevamo proprio toccare perché queste sono due progettualità complementari non sovrapponibili mi fa piacere non so chi l'abbia detto io non stavo guardando la chat perché ho la condivisione dello schermo quindi se dopo magari anche tranquillamente con un intervento si vuole approfondire questa cosa siamo assolutamente qui è sicuramente un percorso parallelo che arriverà dei risultati complementari quindi mi pare molto saggio l'indicazione di non sdoppiare e di ottimizzare le energie e questi due percorsi saranno appunto complementari esatto se posso mettere un po' condivisione di ulteriori elementi anche l'Unione dei Comuni della Garfagnana appunto ha fatto questo studio quindi ecco sicuramente tutto questo ci dà un'informazione quindi che i territori si stanno attivando e che quindi proprio quel ragionamento di area vasta che abbiamo citato prima può qui proprio trovare di fatto attuazione quindi benissimo che si stia partendo in vari punti con questo tipo di analisi e di approfondimento perché poi tutte queste informazioni che verranno raccolte anche su più fronti appunto potranno essere messe in sistema ecco quindi sì era solo per citare appunto anche questa esperienza come diceva gestamente Anna complementare che stiamo sviluppando in Garfagnana ecco credo forse che Raffaella Mariani in quanto sindaco di San Romano in Garfagnana e contemporaneamente anche vicepresidente del parco possa oltre ai saluti che so che ci porta anche del grazie Anna sì infatti io ero stata incaricata da Fausto e dal direttore Vignale di portare un saluto e di e forse se avessi parlato all'inizio avremmo chiarito alcuni passaggi perché oggi loro sono impegnati nel direttivo che si svolge nel comune diciamo della provincia di Parma dove non è possibile fare la connessione ci siamo divisi un po' i compiti effettivamente beh avete già dato tutte le indicazioni tecniche anche di prospettiva che le comunità energetiche comportano io aggiungerei solo il fatto che quando si è cominciata la discussione virgolette sulla direttiva comunitaria e sulla diciamo la definizione delle norme nazionali ancora non si era come dire al problema dell'inflazione trainata dal prezzo del gas aumentato a causa degli eventi congiunturali purtroppo tragici di questa fase ma in quel momento la discussione principale che trainava la necessità di costituire queste comunità di costruire anche occasioni di autoconsumo era prevalentemente per ridurre le emissioni di clima alteranti e anche per ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili per non interrompere diciamo la transizione ecologica quindi una vocazione prettamente ambientale che è caratteristica anche delle aree che noi rappresentiamo all'interno del parco e anche all'interno della riserva MAB biosfera che si è unita anche a un'esigenza molto più stringente che è quella dell'elevatissimo costo dell'energia che si ripercuote sulle famiglie sulle più deboli ovviamente ma insomma su tutte le famiglie diciamo dei nostri territori ma anche sulle imprese sugli artigiani che hanno come dire grandissime difficoltà quindi il parco se è Fausto in questo senso e anche il direttore hanno stabilito di avviare questi tavoli di ragionarne anche appunto quei territori che per conto loro hanno già avviato percorsi come dicevate sia la Longiana la Garfagnana ma immagino anche nell'Emilia Romagna alcune cose siano state avviate in maniera di poter davvero trovare un punto di caduta che sia utile all'ambiente sia utile anche come dire alle nostre economie che spesso quasi sempre sono ristrette in aree interne che hanno difficoltà e costi anche notevoli anche di energia anche per per il riscaldamento che poi nel tema energia ci sta anche quella particolarità la regione toscana in questo momento ha anche predisposto apposite delibere e sta costruendo appunto proprio la settimana scorsa è stato fatto un primo incontro in cui si costruiscono anche collaborazioni con l'agenzia regionale per la che si occupa di energia e che come dire si organizza su ogni provincia stiamo cercando anche di definire come diceva Anna Agostini la possibilità di approfondire alcuni casi pilota due casi pilota che possano anche sommarsi a quello che di fatto le aree hanno già stabilito di fare è un percorso come dire un processo in corso che naturalmente non avendo ancora riferimenti delle leggi nazionali del bando che dovrebbe che si attende da un po' di tempo ma che ancora non è chiaro stiamo avviando di per sé anche autonomamente nessuno vieta a un territorio di organizzarsi su una comunità energetica ad oggi anche in questo momento senza magari utilizzare fondi che verranno dai bandi ma l'idea è che ci si possa organizzare attorno alla collaborazione tra le istituzioni le loro disponibilità anche di spazi di fabbricati pubblici da arrivire a nuove come dire impianti soprattutto sul fotovoltaico ma uniti anche alle esigenze dei singoli dei cittadini o anche delle comunità delle associazioni del terzo settore delle cooperative di comunità apre spazi anche di collaborazione di condivisione molto interessanti per territori come i nostri che possono magari tutti assieme coinvolgere stakeholder e anche società che ci possano mettere a disposizione aggiungo solo un elemento e nel ringraziarvi delle proposte che avete indicato e anche per orare la necessità poi di riorganizzarci con tavoli pensate solo al tema della mobilità sostenibile anche a quello che oggi noi stiamo man mano cercando di costruire nei nostri territori anche rispetto alle opportunità per l'utilizzo di auto ibride eccetera e e quindi quella di costituire anche le condizioni per cui sia più facile per tutti approvvigionarsi di energia a costi molto bassi questo tema è molto interessante aggiungo l'ultimissima cosa avete letto tutti che partiranno dei bandi sulle filiere agricolo forestali con la predisposizione da parte amministrativa dell'agricoltura anche di bandi per l'agri solare guardate che anche quest'aspetto che riguarda all'adattamento delle piccole imprese agricole ma anche grandi che abbiano oggi a disposizione grandi estensioni anche di di tetti da bonificare tante volte anche solo da bonificare perché si parla di tetti in amianto che non sono più adeguati e sostituirli con la possibilità di coperture che abbiano la possibilità di produrre energia quindi ci sono delle opportunità che tenute assieme anche governate in un processo complessivo di miglioramento anche di riduzione delle emissioni prima alteranti penso siano opportunità che non ricapiteranno facilmente quindi lavoriamoci lavoriamoci tutti insieme facciamo anche squadra per utilizzare al meglio queste opportunità grazie buon lavoro grazie grazie vicepresidente grazie sindaco robertino golotti sì mi sentite no intanto mi sembra che la iniziativa desti molto interesse soprattutto con un territorio come il nostro ho visto che in collegamento se Luciano correggi che anche Aaron assessore all'unione volevo capire se l'unione su questo tema si è già mosso perché dico un'area che sicuramente può essere studiata è quella dell'unione dei comuni dell'Apennino Reggiano e quindi credo che questa sia una cosa che valuti veramente l'attenzione di essere ripresa e riguardata però non so se l'unione si è già mossa o sta pensando a un collegamento di questo genere la cosa che chiedevo io all'inizio che però in parte mi è stato risposto in parte no fosse una cosa più legata al mio al semplice comune io chiedo chiedevo questo se alcune strutture sono già sono già state fatte o comunque sono in fase di realizzazione con con questi metodi di gestione di poca di energia di comunità energetica possono rimettersi insieme anche se hanno già chiesto i GSE su eventuali strutture oppure se hanno già chiesto i GSE faccio un esempio se una scuola ha già chiesto il GSE che è in fase di realizzazione o che è stata realizzata può rimettersi in comunità energetica oppure questa non fa testo non so se è stato chiaro sì sì perfettamente perfettamente se posso rispondo io sì nel senso che ciascun ogni impianto che sia stato collegato quindi con autorizzazione dopo il 28 febbraio 2020 può entrare a far parte di una comunità energetica che magari costituiamo di domani o tra un mese quindi la risposta è assolutamente sì tutti gli impianti nuovi e come dicevo prima eventualmente in futuro anche il 30% della potenza nuova installata cioè dopo il 2020 relativa a impianti messi in funzione anche precedentemente il 28 febbraio 2020 perfetto grazie posso fare qualche domanda prego posso rispondere dopo allora rispondi pure a Ron anche no 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 ci dai alcune risposte tu no era solo la risposta a Robertino ma vai vai correggi no intanto grazie per questa iniziativa perché questo dibattito oltre che essere d'attualità per fatti incresciosi mi sentite sì sì ti sentiamo per fatti incresciosi diventa una grande opportunità di crescita per un territorio come quello montano o come un territorio delle aree interne perché un po' questo aspetto al di là del bisogno dell'autosufficienza energetica diventa un elemento un elemento fortissimamente interessante non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista della crescita economica ma anche imprenditoriale e professionale di questi territori tanto se ne parla della possibilità di utilizzazione delle risorse endogene dei territori ma spesso questo è scatenato più che altro contrarietà attraverso un'ascita di comitati o quant'altro allora la prima domanda è quindi benvenga questa attività io non rappresento nessuno salvo una forza politica del territorio che si sta proponendo come come posso dire interlocutore o facilitatore di questa di questa discussione ma voglio portare anche l'interesse di alcune associazioni di categoria che in rappresentanza dei loro soci imprenditori turistici commerciali del territorio stanno pensando positivamente anche con grandi interesse alla risoluzione del problema del costo dell'energia allora la prima domanda mi pare di aver capito ma chiedo una conferma gli strumenti di autoproduzione anche questo l'autoproduzione per l'autoconsumo un elemento culturalmente rilevante che mette in rilievo la posso dire l'intraprendenza di noi stessi per il proprio futuro possono essere fonti diversi dalle più ovvie dal fotovoltaico ma domanda anche a impianti che utilizzano biomasse sul territorio e che producono non solo energia elettrica ma anche come fonti residuali ad esempio sulle biomasse vegetali biogasse e quindi acqua calda per il teleriscaldamento possono essere integrati in una forma di produzione autonoma all'interno delle comunità energetiche o no e le esperienze mia compresa che molti cittadini stanno facendo con il 110% per le proprie abitazioni e che produrranno fonti energie da fonte rinnovabili e che dovranno essere cedute direttamente gratuitamente per la parte non autoconsumata alla rete possono far parte delle comunità energetiche cedendo alle comunità energetiche l'energia eccedente e non gratuitamente alla rete perché insomma sarebbe un grande favore a Enel più che al territorio quindi essenzialmente questi due tipi di domande l'altro aspetto è un auspicio come d'altronde già avanzato da molti ho sentito che ci sia una progettazione ampia un confronto ampio sul territorio soprattutto da parte degli enti pubblici quindi il parco davvero è meritevole avere avviato questa discussione perché la sta affrontando appunto sul territorio di competenza quindi territorio ampio in modo tale che non ci si trovi di fronte ad una competizione ma un'integrazione di progettazione Aronne la nostra comunità montana i comuni che la nostra scusa unione montana i comuni che vi partecipano che stanno predisponendo la pianificazione energetica lo stanno facendo in sinergia o stanno affrontando questo aspetto come semplice adempimento burocratico all'interno di ogni singolo comune e non all'interno di una collaborazione penso che le unioni montane debbano affrontare i temi della programmazione del territorio che possono incrociare le risorse del PNRR come gestione associata di un servizio per l'intero territorio passando anche attraverso le normative nazionali e regionali che prevedono che ogni singolo comune possa cedere una parte della propria sovranità a favore di una capacità progettuale molto più ampia che sta in capo all'Unione questo è l'unico modo tra virgolette obbligatorio ma efficace che possa mettere le condizioni un territorio di aria vasta di incominciare ad analizzarsi a pensarsi e a progettarsi torno a dire il bisogno di autoprodurre energia non è solo l'unico fatto è un fatto attettanto importante un territorio come il nostro che può contare sull'energia solare sulle acque sul vento ma anche sulle biomasse non solo vegetali si stanno facendo sperimentazioni sulle biomasse vegetali e mi riferisco anche ai reflui animali delle deiezioni animali del nostro territorio suine e bovine che rappresentano tra l'altro un problema oltre che possono diventare un'opportunità si sta prendendo in considerazione sperimentazioni di utilizzo della raccolta differenziata dell'umido come componente per la produzione dai reflui di biogas da mettere sul territorio lo scenario è amplissimo bisogna pensare con una mentalità ampia e approfondire tutte le opportunità del caso la documa e notizia il gall antico frignano pennino reggiano una decina di anni fa fece redigere uno studio dalle crpa e altri soggetti imprenditoriali sulla quantità di biomasse derivante dalla cultura tradizionale del bosco nella parte degli usi civici quindi nella parte tra virgolette pubblica e quanta biomassa sul territorio dalle deiezioni animali fosse a disposizione per la produzione di energie da quelle fonti rinnovabili è uno studio datato ma è pur sempre una base di partenza che non credo che il gall vedo Luciana serra i partecipanti che saluto che il gall possa tranquillamente mettere a disposizione e riconsiderare quel tipo di valutazione con ulteriore possibile possibilità io per quello che posso sono a disposizione quindi ringrazio l'organizzazione del parco nazionale e speriamo in ottimo in un ottimo lavoro come ne sono convinto a questo punto a Ronner Ruffini visto che deve rispondere a un po' di sollecitazioni no ma io intanto buongiorno a tutti e un saluto anche alla vicepresidente del parco Raffaella e complimenti per questo per che avete organizzato questo questo evento che è importantissimo come diceva anche con Reggi siamo in una situazione che l'energia sta diventando molto importante perché insomma visto quello che sta un po' succedendo e quello che sono le notizie che arrivano e allora dico subito che come Unione Montana di fatto non abbiamo preso in considerazione ancora questo aspetto dobbiamo approvare il Paese approvare per rendere atto del Paese in questi giorni anzi dovevamo farlo oggi ma poi è stata rimandata la Giunta però abbiamo notizie interessanti nel senso che come dicevo Correggi c'è molta possibilità molta opportunità siamo dentro alla Green Community come area pilota e credo che su questo aspetto si possa inserire molto bene quello che è il tema legato alle energie alternative è chiaro però che tutto quello che è stato detto oggi va pensato strutturato poi portato a terra nel senso che ci sono tanti interrogativi tante domande ne sono già state evidenziate illustrate oggi qualcuna anche da Correggi bisogna capire bene come muoversi ci sono dei professionisti ho visto anche nella presentazione che possono dare queste risposte è importante cominciare a lavorare da subito noi comunione ancora non ci siamo diciamo tra virgolette mossi se non avrei parlato così proprio con qualche intervento a spot durante la Giunta come comune di Vetto ma non voglio fare pubblicità al comune di Vetto abbiamo fatto già qualche considerazione con il sindaco e poi anche per quanto riguarda le biomasse da animali abbiamo anche contattato CRPA però la risposta che ci è stata data è stata quella di dire ma guardate avete delle stalle talmente piccole che la capacità poi di stoccaggio del materiale viene a costare molto perché le distanze quindi ci siamo un po' arenati però nulla pieta di riprendere in mano quello studio che è stato fatto dal CRPA come dicevi tu Correggi cioè bisogna cercare di portare sul territorio tutto quello che c'è come notizia come studi e quant'altro e lavorare in questa direzione quindi io adesso non voglio come Unione Montana dovrebbe essere il presidente non voglio dargli delle cose che magari il presidente smentisce però si capisce che il tema è molto importante quindi non possiamo chiamarci fuori ripeto il parco è partito credo che il parco poi ovviamente ha territori anche al di fuori della nostra Unione Montana ma noi Unione Montana sicuramente oggi sono presente io ma ci siamo insomma quindi anche Perugolotti che ha chiesto ha fatto questa domanda siamo leggermente in ritardo ma siamo ben consapevoli che vogliamo partire di corsa e recuperare magari quel tempo un attimo perso è che il tema è talmente talmente una novità devono ancora uscire per capire nell'estate alcuni alcuni decreti quindi bisogna prepararsi ma ci siamo non so se ho dato risposte sufficienti o o meno io vedo delle mani alzate e stavo andando in file signor Maurizio dalla Lunigiana sì buongiorno grazie ero io che segnalavo quel percorso iniziato dall'Unione dei Comuni della Lunigiana io non ho potuto partecipare mi hanno riferito che in questo credo primo incontro sul tema si fossero indirizzati più verso le biomasse che non verso altre forme di produzione io comunque auspicherei che fin da subito vi mettiate in coordinamento con tutti questi passaggi onde proprio evitare di fare doppioni di lavoro eventualmente dividervi approfondimenti in un senso anziché nell'altro io volevo chiedere se la presenza delle amministrazioni comunali in una comunità energetica se è obbligatoria o se è semplicemente auspicabile visto l'importanza che la dimensione della comunità energetica sia piuttosto vasta insomma e per ora solo questo grazie se volete rispondere sì rispondo io anche alle domande di Luciano Correggi di prima allora quanto alle biomasse beh sicuramente possono essere inserite nell'ambito della comunità energetica sia energia elettrica prodotta da biomassa sia energia termica in termini ad esempio di calore sta succedendo abbastanza spesso che in aree come le vostre come dire si realizzino delle piccole reti di teleriscaldamento alimentate da una centrale biomassa naturalmente prima Ronne Ruffini faceva riferimento alle green communities è chiaro che in un'ottica di economia circolare come dire sfruttare le biomasse sia derivanti dalla pulizia del bosco sia dagli sfalci agricoli sia eventualmente anche dai reflui animali è chiaramente qualcosa che va nell'ottica della manutenzione del territorio nell'ottica del risparmio nella gestione di questi scarti se li consideriamo rifiuti e invece materia prima secondaria se andiamo a recuperarli quindi la risposta è assolutamente sì quello che devo dire è che se utilizziamo le biomasse per produrre calore questo calore non riceve l'incentivo perché l'incentivo per le comunità energetiche è dato solamente per l'energia elettrica prodotta però come dire non è che adesso poi ci dobbiamo impiccare all'incentivo voglio dire l'incentivo c'è naturalmente poi bisogna fare dei calcoli di convenienza se scopriamo la cogenerazione delle biomasse quindi c'è l'una e l'altra esatto ma in ogni caso voglio dire dipende anche dai quantitativi di biomassa dal quantitativo di calore di cui abbiamo bisogno quindi bisognerà fare dei ragionamenti e poi chiaramente come dire prendere la strada più adeguata per la massimizzazione del risultato per quanto riguarda invece il tema del 110% allora anche in questo caso impianti fotovoltaici che sono stati finanziati con il 110% possono entrare nelle comunità energetiche ma non ricevono l'incentivo sull'energia condivisa permettono tuttavia alla comunità energetica di recuperare i 9 euro a megawattora per l'energia condivisa come restituzione degli oneri di rete quindi questo va detto per quanto riguarda invece l'obbligatorietà della partecipazione del comune a una comunità energetica assolutamente no tant'è che appunto in questa fase sperimentale stanno nascendo ormai tantissime comunità energetiche diciamo private magari come dire promosse da aziende partecipate solo da soggetti privati è evidente però che in territori come i vostri cioè come quello che come facevamo negli anni 70 come dire l'intervento pubblico è importante perché dà la spinta per poter appunto contrastare lo spopolamento rigenerare l'economia quindi diciamo che sia la direttiva europea ma anche la normativa italiana sollecita e anche il PNRR che come sapete appunto come abbiamo detto sta stanziato 2 miliardi e 200 milioni di euro per i comuni sotto i 5 mila abitanti ecco tutte queste cose sollecitano fortemente le pubbliche amministrazioni però non è obbligatorio che la pubblica amministrazione né promuova né partecipi a una comunità energetica rispetto al tema dei decreti attuativi anche quello direi che in questo momento è un non problema il fatto di non avere in mani i decreti attuativi perché quello che noi proponiamo e quello che tanti territori stanno facendo è proprio di fare un lavoro di conoscenza e di indagine del territorio in modo da avere un piano di azione che possa essere prontamente adeguato eventualmente a quello che i bandi del PNRR ci richiederanno quindi se noi abbiamo fatto un buon lavoro di mappatura di tutte le fonti energetiche disponibili del fabbisogno richiesto dell'investimento necessario per realizzare la produzione per soddisfare il fabbisogno a quel punto noi abbiamo tutti gli elementi che ci servono e che possiamo poi utilizzare per andare a rispondere in maniera coerente al bando qualsivoglia esso sia ecco quindi non mi preoccuperei in questo momento dei decreti attuativi volevo aggiungere scusa Daniela una questione che credo sia una bellissima suggestione rispetto alle fonti che avevamo che anche tu inizialmente insomma hai specificato non essere solo fotovoltaico ovviamente il fotovoltaico per comodità e perché ci sono anche tutti questi incentivi è magari il più immediatamente associato a questi ragionamenti ma altri tipi di energia a partire da l'idroelettrico ma appunto biomassa ma anche soprattutto reflui agricoli e dootecnici sono stata la base di sviluppi di alcune comunità energetiche specifiche per esempio già dal 2018 c'è una comunità energetica che si chiama energia agricola chilometro zero che è promossa da col diretti e che proprio mette in rete alcune società agricole che basano sia sul fotovoltaico ma anche sulla valorizzazione dei reflui agricoli e la produzione di energia un'altra conosciuta è Mediterranea invece in Sicilia per cui diciamo se per comodità l'associazione è principalmente col fotovoltaico in realtà alcune organizzazioni hanno fatto proprio dei propri reflui la spinta per l'innovazione usandoli come risorse l'importante è che siano rinnovabili quindi dall'eolico all'idroelettrico ai reflui ma che siano rinnovabili ci tenevo perché secondo me anche questa è una buona suggestione da mettere sul piatto Valerio si era avanti direttore macroarea parche miglia centrale Valerio l'ente si chiama l'ente per i parchi e la biodiversità miglia centrale la macroarea è un'aggiunta cioè il contesto si abbreviato no allora faccio una battuta che magari può sembrare cattiva ma 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 no dentro dentro alla riserva della biosfera di parchi ce ne sono direi almeno cinque quindi citare il parco allo stato attuale può essere ambiguo e così come citare l'unione l'unione dei comuni ce ne sono molte di più e via discorrendo la battuta in questo senso cioè l'organizzazione di questi tavoli di discussione che ritengo anch'io comunque essere un momento utile credo che sia ormai doveroso prima dell'organizzare la scaletta anche dare un'occhiata a quello che c'è in un contesto così grande come quello della biosfera attualmente che è quasi metà della regione Emilia-Romagna e parte della regione toscana che è buona è una bella parte della regione toscana e anche perché appunto poi come dire ci accorgiamo ci sorprendiamo a scoprirci di fare delle cose simili senza esserci neanche parlati voi mi direte i tavoli servono appunto questo e certamente sì se riusciamo anche organizzarli meglio come proprio scaletta della giornata forse può essere utile perché poi ci si arriva più preparati ci si arriva con documentazione ci si arriva con qualche passaggio già fatto però credo che ci sarà tempo per poi farli in serie e allora riguardo ai parchi che non sono il parco nazionale l'ente parco Emilia Centrale soprattutto nel contesto dell'appennino modenese insieme all'unione dei comuni del Frignano anche sentendo partecipando a un seminario fatto dai tecnici che sono presenti oggi quindi Sinlock for Energy4Com si è si è attivata per lavorare nella stessa direzione che ci avete presentato voi ovvero noi eravamo già partiti su un progetto che riguardava diciamo la filiera legno-energia con un GOI che abbiamo già anche un po' discusso e quindi soprattutto sul tema delle biomasse come le biomasse potevano anche alimentare essere parte di un tassello delle comunità energetiche ovviamente un tassello quindi abbiamo alcuni studi un po' più recenti di quello del Galle riguardo le potenzialità dei boschi pubblici ad alimentare impianti abbiamo scoperto per esempio che i boschi demaniali non sarebbero con gli attuali piani di gestione non sarebbero sufficienti nemmeno per far funzionare gli impianti di riscaldamento a biomasse che sono già stati costruiti nei comuni ci sono sette impianti e quindi ci vogliono sicuramente più superfici e servirebbero non solo le superfici del demanio regionale ma le superfici degli usi civici le superfici dei comuni quindi c'è un tema oltre a quelli che avete detto voi se vogliamo ragionare sulle biomasse che è sicuramente interessante per anche un riscontro economico sulle comunità locali un tema anche di pianificazione della risorsa legno una pianificazione sostenibile ovviamente che tenga conto di tutti gli altri aspetti ma che tenga conto anche di questo aspetto qua che sicuramente è un aspetto del futuro anche per la gestione del bosco cioè il bosco ha tanti attraversa tante caratteristiche interessanti e una è anche questa oltre che lo stoccaggio del carbonio la biodiversità eccetera e ci siamo attivati per ora proponendo appunto al bando della fondazione Cassa di Risparmio di Modena che si è attivata per mettere a disposizione risorse per la progettazione sul su futuri bandi del piano nazionale di presa e resilienza un'idea di indagine di fattibilità delle comunità energetiche nel territorio del del Frignano e del del parco del dell'Alto Appennino Modenese considerando in primis il patrimonio il tema delle biomasse il patrimonio forestale pubblico allora noi stiamo in attesa di di un esito positivo su questa richiesta di finanziamento ovviamente una volta ottenuta contiamo di coordinarci con voi anche proprio per avere magari qualche anche un un aiuto con voi nel senso del del lavoro che state già facendo e con i professionisti già coinvolti per magari usare una modalità simile ecco e riuscire ad ampliare questo questo lavoro che mi pare focalizzato soprattutto sull'Apennino reggiano anche sull'Apennino modenese noi abbiamo instaurato oltre che una collaborazione tra ente parti e unione dei comuni del Frignano anche una collaborazione con con l'Agenzia pubblica per la sostenibilità e l'energia che è di Modena che è l'ASS che ha già insomma lavorato da alcune comunità energetiche soprattutto in contesti di città quindi quartieri urbani quartieri industriali fa piacere sapere che la Toscana si sta muovendo con decisione poi giustamente nella sua tradizione di regione che è molto attenta all'utilizzo sostenibile nel bosco devo dire che anche l'Emilia Romagna si sta attrezzando per una legge specifica sulle comunità energetiche quindi ci potranno essere risorse sia speriamo in dotazione a questa legge sulle comunità energetiche sia mi dicono anche risorse che vengono dal dal programma PORFESR che la regione Emilia Romagna sta definendo insieme ovviamente ai ministeri quindi diciamo che il bacino di opportunità anche per finanziare gli impianti direi che sarà ricco bisogna arrivarci ben preparati e anch'io come chi mi ha preceduto dico che è una di quelle missioni che la riserva dell'ergiosfera ha opportunamente dovrà opportunamente coltivare più riesce a coltivare in maniera appunto coordinata su tutto il suo vasto territorio sicuramente meglio meglio è ecco quindi dopo questo tavolo magari appunto non perdiamoci di vista e teniamoci in contatto per scambiarci anche idee per scambiarci come dire modalità che possono servire per portare a casa qualche risultato sul contesto modenese si sta ragionando soprattutto sulla zona alta anche perché appunto lì c'è sicuramente di più un tema sociale economico e di e anche di appunto di ricadute per la tenuta di quelle comunità però l'argomento riguarda 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 molte più comunità per esempio ora si potrebbe pensare no con 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 l'impianto e col senno del puoi di quanti piccoli impianti idroelettrici sono stati autorizzati in corsi d'acqua pubblici che sono andati a beneficio di alcuni operatori privati che potrebbero invece adesso essere molto utili a comunità energetiche che avrebbero anche un appunto un riscontro un beneficio non solo per uno che magari non so viene da Milano o comunque da fuori territorio che ha che aveva la disponibilità di investire un milione o due su un su un impianto idraulico ad acqua fluente ma queste questo questo minimi questi mini impianti potevano sostenere la vita di comunità locali di comuni di piccoli comuni di piccoli paesi comunque ormai quello che è fatto come si dice è fatto e temo che per esempio il sull'idroelettrico ci sarà molta difficoltà a procurare impianti nuovi almeno in appennino considerando quelli che sono stati fatti e anche i regime di precipitazioni che ci saranno ovviamente non è l'unica forma ok grazie del confronto grazie Valerio posso cogliere scusa Chiara posso cogliere una sollecitazione scusami dopo Anna Clara Cavellini se c'è del comune di Pontremoli sì ci sono ho avuto problemi di connessione ma ci sono grazie però brevissima ma giusto per riprendere alcune questioni fondamentali secondo me anticipate da questo intervento la collaborazione non solo è necessaria ma è anche proprio una forza propulsiva di questo lavoro per cui ovviamente per facilità per operatività di questo lavoro si ragiona per ambiti territoriali e si parlava del parco intendendo il parco nazionale dell'appennino toscomigliano proprio per il suo ruolo di coordinatore della riserva della biosfera e quindi anticipo cioè dico una cosa per conto del parco ti prego Chiara e Raffaella aiutatemi a completare nel caso sia utile insomma credo che il parco proprio in quanto soggetto coordinatore della riserva della biosfera abbia preso in mano diciamo la questione e si sia fatto soggetto operativo in questo tema proprio per segnare anche un po' una strada e per poter dare degli strumenti che poi possono essere allargati ad altri territori per cui sicuramente questa proposta di cui vi abbiamo parlato interessa in questa fase i comuni del parco proprio perché si lega a un finanziamento di parchi per il clima che poteva applicarsi a questo territorio ma crediamo e lavoreremo per questo che i risultati che si avranno da questo lavoro siano estendibili a tutto il territorio della riserva della biosfera e possono dare proprio un esempio che poi si possa replicare e allargare agli altri territori quindi Chiara Raffaella aiutatemi ho tralasciato qualche cosa ma mi pareva utile è giusto mi pareva fosse stato chiaro comunque è giustissimo così bene Clara Cavallini vice sindaco di Comune di Pontremoli sì salve grazie innanzitutto dell'invito noi facciamo parte ovviamente del territorio della Magonesco e quindi siamo qui per questo ma soprattutto perché il tema lo trovo veramente importante interessante personalmente ci credo molto al prescindere poi dal momento contingente che ci porta a scelte che adesso sono se prima erano necessarie ora sono obbligate a mio avviso quindi l'impegno da parte delle amministrazioni dei privati le sinergie bisogna trovare una quadra perché sicuramente io personalmente sto facendo di tutto per non per essere green per così dire perché penso che si cominci anche dagli esempi personali fotovoltaico sul tetto dal 2007 viaggio in bicicletta cerco di nel mio picco dare un minimo di anche esempio e soprattutto bisogna partecipare a questi che sono progetti importantissimi per le comunità e fare appunto come dicevo sinergia vengo alla domanda c'è stato un incontro recentemente nel nostro territorio al quale io purtroppo non sono riuscita a partecipare ed è venuto fuori il termine di green community no? non so della spiegazione che avete dato io qualche passaggio me lo sono purtroppo perso per problemi di connessione però volevo capire la differenza tra la comunità energetica e la green community perché sinceramente non l'ho capita per spiegare le comunità energetica la spiegazione che avete dato delle comunità energetiche è stata esaustiva per me è importantissima e ve ne ringrazio però non so non capisco questa differenza che c'è se c'è è anche soprattutto grazie spero di avere altri momenti di incontro di tavoli di confronto perché sono molto interessata grazie a lei qualcuno che vuole rispondere o facciamo parlare prima signor Pinelli come volete voi allora sentiamo il signor Pinelli c'è anche lui qualche domanda o se sì buonasera non ho particolari domande ma ci tenevo a fare un intervento in ragione di quella che è una prospettiva in termini di impegno che la lunigiana si vuole e si è voluta assumere mi riferisco ad un incontro che c'è stato in regione toscana la settimana scorsa dove si è parlato di questo tema e di questa prospettiva e di queste opportunità e dove il territorio della lunigiana che come tutti sappiamo da non molto tempo è completamente incluso quella che è la riserva del MAB oltre quindi ai comuni di Appennino insomma che erano dentro il parco già da tempo ma come vi dicevo la lunigiana si è posta in maniera comprensoriale ed ha partecipato a livello comprensoriale a questo incontro esprimendo le proprie intenzioni di cercare di costruire un modello per poter arrivare alla costituzione di quelle che sono le comunità energetiche ovviamente sulle quali anche da parte nostra c'è ancora molto da conoscere e da scoprire ma insomma riteniamo utile e anche in considerazione di quello che diceva il vice sindaco Pedi Contremoli poco fa dare e esprimere quella che è una vocazione in questo senso che il nostro territorio riteniamo debba avere detto questo ci tenevo anche a dire che sono evidenti le difficoltà nel riuscire a realizzare questi progetti e da percorrere questi percorsi in considerazione del fatto che abbiamo dei territori particolarmente frammentati dei territori che rappresentano e sono rappresentati da comuni di piccole dimensioni e quindi anche il livello ma più che il livello la disponibilità anche di risorse umane da poter dedicare allo sviluppo di progetti per il quale sono necessarie elevate professionalità è complesso ed è proprio su e partendo da questa difficoltà consapevoli di non voler perdere comunque delle opportunità che ci siamo rivolti alla regione toscana e mi faceva piacere esprimere anche questo concetto e questo principio e richiedere anche questa disponibilità che sono sicuro non mancherà al parco e al MAB ovviamente quale ente necessariamente coinvolto in quelli che sono dei progetti che hanno delle ricadute dal punto di vista ambientale abbiamo richiesto alla regione toscana la possibilità di anche offrendoci come modello pilota per lo sviluppo di quelli che possono essere dei percorsi virtuosi e possibili poi da replicare la disponibilità di un sostegno concreto leggevo e guardavo prima anche le slide sui progetti che sono state esposte dove si fa riferimento anche a sostegni per quanto riguarda la progettazione poi lo studio anche di fattibilità di progetti appunto relativi poi e parti fondanti delle comunità energetiche e quindi insomma ci tenevo a condividere comunque in questa riunione quella che è l'intenzione le disponibilità e la volontà del territorio della lunigiana di percorrere questo percorso e del passaggio che è stato compiuto con la regione toscana nell'ultimo incontro e poi ovviamente non ho le competenze specifiche quindi rimando a chi potrà rispondere alla richiesta alla domanda del vice sindaco di Pontremoli sulla quale credo sia anche opportuno appunto fare chiarezza perché credo che di chiarezza sul punto di consapevolezza non ce ne sia molta anch'io faccio un pochino fatica a capire quelle che sono le differenze però insomma mi pare di intendere che sia necessario appunto come dicevo e come ha fatto bene a chiederlo Clara Cavellini di specificare bene quali sono le differenze fra la green community sulla quale in lunigiana sabato mattina è stato tenuto un convegno con il coinvolgimento anche di alcune università per cercare di raccogliere delle idee di dare un contributo di approfondimento in vista di quella che è una prospettiva una prospettiva un appuntamento che è quello di settembre su quelle che sono la possibilità di partecipare al bando ministeriale correggetemi se sbaglio per lo sviluppo appunto di questi progetti di green community che diciamo da quello che io ho capito necessariamente le comunità energetiche potranno essere una parte complementare ma che sono una cosa distinta e diversa io mi fermo qua ringrazio per l'attenzione sicuramente ci rivedremo e ritorneremo sul punto ci saranno sicuramente ulteriori momenti per richiedere sicuramente un contributo in termini di aiuto e una partecipazione ma anche per poter condividere e confrontarci affinché tutto il territorio del Mab possa crescere in questi termini in queste prospettive va perché no in maniera omogenea e uniforme nell'interesse del nostro territorio che condividiamo grazie grazie a lei adesso allora facciamo rispondere insomma in modo che sia chiaro a tutti le differenze tra green community e comunità energetica e dopo dopo la spiegazione Nuccia Mola le cambienta per di Norigiano beh diciamo che come dire in modo che sia chiaro a tutti la differenza tra green community e comunità energetica uno ci prova perché in realtà sono definizioni abbastanza general generiche se non fosse che in realtà afferiscono due misure differenti e distinte del PNRR quindi la misura di cui parliamo noi quando parliamo di comunità energetiche è quella che abbiamo detto i due miliardi e duecento milioni destinati ai comuni sotto i cinquemila abitanti e è relativa alle comunità energetiche per come le abbiamo descritte ovvero soggetti che insieme realizzano e mettono a disposizione della comunità impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili queste sono le comunità energetiche per come definite dalla direttiva europea dalla normativa di ricepimento e dalla misura che abbiamo citato prima del PNRR le green communities in realtà sono comunità verdi quindi potrebbe essere come dire un'accezione più ampia di una comunità che vuole fare una transizione ecologica e non solo energetica se vogliamo anche come dire fare un po' di filosofia nella realtà le green communities hanno preso come dire la scena in qualche modo perché appunto sulle green communities c'è un'altra misura del PNRR che finanzia la realizzazione di comunità che diciamo realizzano progetti di economia circolare quindi nello specifico quello che dicevamo prima se una comunità ha abbondanza di biomassa piuttosto che reflui suini e su questo innesta un progetto di energia circolare tale per cui da quelli che prima erano considerati rifiuti riesci ad ottenere materia prima secondaria e produrre un altro prodotto ecco questa si può come dire inserire come green communities quindi comunità energetiche insistono sulla produzione di energia elettrica green communities insistono sull'economia circolare che può arrivare alla produzione di energia ma anche no non so se è chiaro ma direi che questo è un pochino il il senso se mi è permesso aggiungere una cosa siccome mi sembra che come dire tanti di voi opportunamente insistono sulla sulla necessità e sull'opportunità anche di lavorare su ampie aggregazioni su aree vaste anche un pochino rimpiangendo il fatto di come diceva Fioravanti di aver ceduto degli asset energetici che ora sarebbe degli asset naturali che ora sarebbero interessanti a fini energetici allora voglio dire che il tema che si apre un pochino con le comunità energetiche al di là di quello che è andato che ormai è andato e non credo ritornerà nel senso che se abbiamo dato la proprietà o magari abbiamo dato delle concessioni allora ci sono due aspetti interessanti uno quello a cui si potrebbe fare riferimento in questo momento che è quello delle cooperative energetiche storiche dell'area del Trentino della Valle d'Aos e dell'Alto Adige laddove storicamente loro invece si sono tenuti i loro asset naturali e hanno costituito delle cooperative energetiche quindi producono la loro energia con il loro diciamo capitale naturale la seconda cosa interessante invece sulla quale invece possiamo tornare a discutere è quella della rete di distribuzione locale di energia elettrica noi non abbiamo appesano non volevamo appesantire troppo la nostra presentazione insomma però un'opportunità molto interessante che si apre è quella della scadenza nel 2030 delle concessioni delle reti di distribuzioni locali che adesso sono per lo più a seconda dei territori insomma gestite da e-distribuzione piuttosto che da reti in Lombardia piuttosto che non so da chi nella vostra zona probabilmente da e-distribuzione anche nella vostra zona allora che cosa succede in prospettiva qual è la visione che possiamo immaginare da qui al 2030 possiamo immaginare che recuperati i fondi che ci servono per realizzare comunità energetiche quindi come dire mettere in piedi e autogestirci la produzione con il consumo quello che possiamo pensare nel 2030 è di essere diventati così come dire un pochino più esperti in ambito energetico per dire il comune XY piuttosto che la rete di comuni si candida a prendere la concessione della rete di distribuzione elettrica la rete di distribuzione che come ricordate prima del 90 era come dire di proprietà dei comuni poi è passata ai distribuzioni ma non dimentichiamo che ci sono tanti comuni ancora in Italia che ancora possiedono la rete di distribuzione locale e tanti di loro ancora fanno le bollette dell'energia ai loro cittadini tra le nostre esperienze tra le nostre referenze c'è quella del comune di Berchidda in Sardegna in provincia di Sassari che infatti è proprietario della rete di distribuzione e che giusto appunto negli anni scorsi si è attrezzato per riqualificare la rete di distribuzione in modo da renderla come dire adeguata a gestire a diventare una smart grid e quindi a gestire eventualmente anche le rinnovabili proprio a Berchidda noi stiamo facendo quindi una comunità energetica locale che potrà avvalersi anche della rete di distribuzione ma non ultimo qualche settimana fa abbiamo stiamo interagendo abbastanza spesso con l'associazione dei borghi più belli d'Italia e abbiamo anche lì identificato un tot di comuni perché sono mica pochi di pochissime centinaia di abitanti l'uno in Abruzzo che ancora anche loro possiedono la rete di distribuzione locale quindi diciamo che in prospettiva l'idea è proprio quella di come dire riappropriarsi di tutti quegli asset che via via sono stati privatizzati scusate volevo aggiungere questa cosa grazie accolgo aggiungendo solo mi scuderà l'intervento che viene subito dopo ma mi pare una sollecitazione importante proprio perché non volendo appesantire troppo la presentazione quindi volendo lasciare uno spazio per la discussione che si sta sviluppando in maniera molto interessante abbiamo saltato diciamo tutta la parte di suggestioni nate dalle buone pratiche però questa che Daniela anticipava proprio della possibilità di gestire la rete ha innescato in Trentino dove una delle realtà che ha già da tempo insomma sfruttato questa occasione ha innescato proprio a regia del consorzio elettrico di Storo in un'altra riserva della biosfera la riserva della biosfera delle Alpi Ledrense Giudicaria la prima comunità energetica trentina in un paese di 51 abitanti quindi si parla di spopolamento si parla di manutenzione del territorio di presente eccetera questa iniziativa oltre a non essere costata niente agli abitanti perché appunto il consorzio in questo caso ha avuto la funzione di una ESCO ha innescato un processo virtuoso non solo di marketing territoriale ma anche proprio operativo rispetto al sfruttamento dei tetti anche per avere un reddito eccetera eccetera che qui in un paese di 51 abitanti ha portato nuove 6 nuovi abitanti che sono una buona percentuale proprio richiamate dalla possibilità nata anche da questa organizzazione di sfruttare queste caratteristiche anche a fini produttivi e quindi anche economici per cui ecco visto che non ci sarà il tempo di andare in dettaglio delle varie delle varie già esperienze sviluppate in altri territori mi sembra che questo possa essere un buon parallelo proprio per immaginarsi cosa può succedere nei paesi delle aree interne di cui il vostro territorio è ricco insomma Nocciavola legamento per il loro ragione sì e faccio parte anche di un gruppo di transizione ecologica ci stiamo occupando proprio di questa tematica e dico che avevo già assistito all'altro tavolo sulla comunità energetiche e io oggi mi devo scusare perché sono mi sono collegata un po' tardi perché avevo un altro impegno però quello che non riesco a capire sulle comunità energetiche è che non si parla mai di efficienza energetica delle buone pratiche perché siamo veramente con il caro energia e all'interno di questo prima di formulare nuove tecniche non parliamo mai delle buone pratiche dell'efficienza energetica che sarebbe veramente perché l'energia non consumata è la prima fonte migliore poi volevo dire volevo ancora aggiungere sulle comunità energetiche io faccio fatica come parlo come cittadino in questo momento se io avessi voglia di cominciare a fare una comunità energetica non saprei uno a chi rivolgere due dovrei trovare io altre persone che possano partecipare perché se no metto il fotovoltaico sulla mia sulla mia palazzina e però vorrei sviluppare la comunità energetica ci vorrebbe prima la progettazione chi la paga la progettazione non c'è nessuna sensibilizzazione a questa argomentazione e devo dire anche che le amministrazioni io faccio parte di un comune di 10.000 abitanti quindi neanche in quei bandi di cui si parla di 5.000 abitanti avremo come dire un'opportunità di essere da filtro come amministrazione comunale quindi anche questa mi sembra una cosa a cui io farei fatica anche con tutta la mia buona volontà a mettere insieme una comunità energetica qui nel mio paese perché insomma prima di tutto dovremmo sensibilizzare i cittadini i cittadini sentono soltanto la bolletta in questo momento che è molto alta però non trovano soluzioni e la prima cosa ritorno a ribadire il fatto delle buone pratiche del risparmio energetico e poi vorrei capire un'altra cosa soprattutto qui nella nostra zona sarà approvato tra pochi giorni il paese però i comuni cosa hanno fatto i nostri comuni per si parla sempre di investimenti sempre insomma ancora allo stato brado senza poter dare al cittadino delle opportunità più concrete più 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 sì converso con la signora quando ha detto che le green community sono è un'altra cosa a differenza delle comunità energetiche perché per esempio qua la montagna del latte sarà volta verso la mobilità e il lavoro alimentare ecco io faccio quella domanda iniziale vorrei chiedere come può partire al di là di tutto quello che ci si è raccontato come partire se un cittadino da solo insieme a forse a qualche di un altro cominciare a parlare di comunità energetica grazie rispondo prego prego vado allora grazie Nuccia perché mi ha beccata nel senso che ho scordato di dire qualcos'altro ma insomma avevamo già fatto 50 minuti di presentazione anche non è che volevamo proprio sfinirvi però questo tema dell'efficienza energetica è chiaramente centrale voglio dire mi ruba la migliore l'energia più rinnovabile quella non autoconsumata è uno slogan che portiamo avanti fin dal 2010 io personalmente quindi lei me l'ha rubato ma io lo condivido diciamo che però ehm il tema delle comunità energetiche ehm porta con sé naturalmente quello dell'efficienza energetica mi spiego meglio se noi facciamo una comunità energetica dove c'è un impianto che produce energia dove c'è e non siamo entrati nel dettaglio un misuratore che mi dice per ogni momento per ogni quarto d'ora quant'è l'energia prodotta e quella consumata vuol dire che io magari dal mio telefonino con una app posso vedere quanta energia sto consumando posso anche confrontare i miei consumi con quelli dei miei vicini di casa e scoprire che sto consumando troppa energia rispetto alla media ad esempio e quindi scoprire che ho un frigorifero vecchissimo che non sto cambiando perché giustamente non penso che sia il caso di sostituirlo ma che mi consuma tantissima energia piuttosto che posso scoprire che se anziché eh utilizzare la lavastoviglia o la lavatrice di sera la utilizzo in certe fasce orarie dove è disponibile il fotovoltaico che nel frattempo abbiamo messo a disposizione della comunità energetica e che in quella precisa ora non sta usando nessuno e quindi se io vado ad usare la lavatrice in quella specifica ora prendo anche l'incentivo ecco che anche questo è efficienza energetica ma la sua nota mi dà anche un pochino il destro per specificare da qualche parte qualcun altro l'ha già detto che efficienza energetica vuol dire anche fare una transizione energetica del sistema dei trasporti e quindi vuol dire che tendenzialmente quando avremo dell'energia a basso costo perché ci siamo fatti tutta la produzione smetteremo di comprare tendenzialmente cercheremo di smettere di utilizzare l'automobile tutti quanti ma comunque tenderemo ad utilizzare eventualmente automobili elettriche biciclette elettriche per chi vive in ambienti appunto montani dove la bicicletta non è una roba tanto gestibile e quindi quando parliamo di transizione energetica noi in realtà parliamo di efficientamento e di transizione dalle fonti fossili e dall'energia termica verso l'energia elettrica e rinnovabile quindi in realtà l'efficienza è un di cui tant'è che anche se in maniera un po' disordinata in Italia va detto che siamo partiti con questo bonus 110% che appunto lavora sull'efficienza energetica che poi si va a come dire in qualche modo sposare o ad abbinare con quest'idea invece dell'incremento della produzione di energia rinnovabile quindi sì in realtà le due cose vanno abbastanza per conto loro cioè vanno abbastanza insieme scusi per quanto riguarda invece il cittadino che vuole fare una chair guardi io sono anche giornalista e quasi settimanalmente come dire raccolgo esperienze di nascita di comunità energetica allora il cittadino che vuole fare da sé dovrebbe avere un minimo di cognizione di causa rispetto all'energia e questo è un problema è un deficit culturale che noi ci portiamo nel senso che in generale le persone cambiano il come si dice il contratto del proprio telefonino magari ogni mese ogni due mesi per risparmiare due centesimi ma mai nessuno ci ha insegnato a leggere la bolletta elettrica e quindi ci sono ancora 23 milioni di italiani che hanno ancora come dire il contratto dell'energia elettrica con il servizio di maggior tutela che magari può essere come dire opportuno e anche una buona scelta ma non è detto anzi io non credo che tutti i 23 milioni di italiani abbiano fatto un ragionamento per decidere di rimanere lì quindi è chiaro che oggi come dire con tutta la tecnologia che è imperversa nella nostra vita come dire quella che noi chiamiamo cittadinanza scientifica ovvero un minimo di conoscenza anche tecnologica e scientifica è necessario proprio per esercitare i nostri diritti di cittadinanza è vero che però ci sono dei soggetti che sono che stanno riuscendo a realizzare delle comunità delle piccole comunità energetiche su iniziativa locale le faccio un esempio proprio rapidissimo vicino a me che tra l'altro non abito neanche tanto lontana da voi una azienda agricola piccola azienda agricola che coltiva basilico e produce pesto a un certo punto aveva proposto di realizzare un impianto fotovoltaico anziché farlo di 6 kilowatt che gli bastavano l'avrebbe fatto di 9 abbiamo insieme parlo già di due anni fa abbiamo insieme come dire convocato una riunione con i suoi vicini di casa per capire se questa comunità energetica poteva essere fatta io naturalmente ho dato il mio contributo a Pro Bono poi loro non ne hanno fatto niente però per dire che questa era una cosa che poteva succedere allo stesso modo stanno come dire cercando di partire piccole iniziative a partire dalle cooperative di comunità che sono altri soggetti interessanti le cooperative di comunità svolgono delle attività magari piccole ma interessanti rispetto alla comunità locale ecco che queste potrebbero beneficiare dal e hanno tante relazioni quindi le cooperative di comunità potrebbero essere soggetti aggregatori che realizzano un proprio impianto per soddisfare il proprio fabbisogno intanto ampliano la comunità energetica e magari prestano anche servizi alla comunità energetica stessa quindi appunto nell'ottica dello sviluppare l'economia locale e in ultimo i comuni è chiaro perché stiamo sollecitando i comuni e gli enti locali a promuovere le comunità energetiche per in qualche modo come dire coprire questa inefficienza del singolo cittadino che gioco forza come dire non è che può fare tutto da solo il problema però come qualcuno ha già sollevato è che a loro volta i comuni hanno pochissime risorse umane pochissime competenze di questo genere in particolare i comuni piccoli ecco che come dire proposte come la nostra vanno a coprire quel gap come dire di conoscenza e di competenza è evidente che se come dire l'obiettivo è quello di andare a prendere i soldi del PNRR bisogna trovare prima le risorse per fare la pianificazione la progettazione per andare a prendere i soldi del PNRR in questo senso come diceva la collega Alessandra secondo me se anche voi andate a vedere in questo famigerato allegato a del decreto del del ministro per la coesione per il sud scusate mi dimentico sempre questo nome sicuramente trovate anche il vostro comune lì dentro sia che sia sotto i 5.000 sia che sia sopra i 5.000 abitanti perché hanno avuto la malaugurata idea di chiamarlo appunto ministro per la coesione per il sud ma poi in questo decreto che hanno fatto c'è un elenco che spazia ad esempio io abito vicino alla Lunigiana abito a Lerici che spazia da Portovenere per dirne una ai comuni del Piemonte e del Cuneese insomma oltre naturalmente al sud quindi consiglio di andare a verificare questo elenco perché senz'altro troverete lì e sono risorse che per i comuni molto piccoli ruotano intorno ai 14.000 euro che non sono pochissimi che hanno solamente questo vincolo quelle risorse possono essere investite per fare progettazione su linee di investimento finanziate dal PNRR per i comuni più grandi ci sono anche investimenti per le città ci sono anche fondi scusate per le città metropolitane capologhi di provincia eccetera grazie grazie Daniele qualcuno altro che ha qualcos'altro da dire che vuole fare domande sindaco Giannetti sì sto provando mi sentite? sì 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 pomeriggio a tutti scusate perché ho avuto anche altre cose nel frattempo da fare ho visto che è intervenuto Marco Pinelli insomma rappresentanza comunque dell'Unione dei Comuni dell'Unigiana non ho ascoltato cosa ho detto ma credo che siamo assolutamente in sintonia noi qua come l'Unigiana ci siamo e ci stiamo organizzando come Unione dei Comuni per cercare di fare un ragione di fare un ragionamento di fare un ragionamento che veramente possa essere comprensoriale riguardare tutto il nostro territorio un territorio che naturalmente si sposa con le comunità energetiche perché per tutta una serie di caratteristiche che in questo territorio esistono per cui da questo punto di vista siamo avanti ho ascoltato prima l'intervento di un signore non ricordo il nome che parlava dell'Unione dei Comuni dell'Unigiana che punta sulle energie ora non mi viene il termine scusate da insomma da centrali che sfruttano il legno le biomasse eccetera non è così nel senso che come l'Unigiana ci siamo aperti veramente a tutte le possibilità e opportunità che ci sono devo dire che ho avuto partecipato a un incontro la scorsa settimana in Regione Toscana perché anche la Regione insieme a Danci e ho sentito Raffaella Mariani che lo ha fatto presente prima sta lavorando in questa direzione c'è di grande disponibilità dalla parte della Regione anche di aprirsi a quelle che sono le nuove tecnologie perché oggi abbiamo tutta una serie di regole che ci frenano anche da un certo punto di vista per andare in quella direzione ad esempio del fotovoltaico l'agrivoltaico o fotovoltaico sarà sicuramente importante ma lo stesso vale anche per altre situazioni penso all'eolico e altre cose insomma mi pare che da parte di Regione Toscana però ci sia disponibilità a superare anche tutti quei vincoli e quelle restrizioni che ad esempio la sovraintendenza spesso omette e che ci frena da questo punto di vista per cui noi dobbiamo avere possibilità di investire veramente su questo settore come l'Urigiana ci siamo come dicevo organizzati e ci stiamo organizzando in questo modo per poter essere uniti in una battaglia io la dico così perché insomma questa è veramente una grandissima innovazione da cui i prossimi vent'anni dovremmo avere la capacità di metterci la testa e investire risorse importantissime perché potrebbe essere una rivoluzione i nostri territori già oggi hanno tutta una serie di strutture soprattutto nell'idroelettrico che possono garantire efficientamento energetico a questi territori chiaramente questo deve essere ampliato abbiamo anche in un convegno fatto sabato scorso qui in Unigiana parlato con dove c'erano a relazionare diversi professori universitari dell'università di Modena di Reggio e di Parma ci hanno dato diversi spunti molto interessanti anche su tecnologie modalità di innovazione che potrebbero veramente fare il caso nostro da un punto di vista meramente progettuale non abbiamo ancora nulla di concreto siamo in questa fase con le orecchie al vento per capire qual è la soluzione migliore per il nostro territorio probabilmente se parliamo di comunità energetiche non dovremmo pensare a un'unica comunità per tutta la Unigiana sarebbe forse impensabile ma più comunità energetiche per ogni e per i comuni che la compongono per diversi territori se parliamo di green community invece sì che come l'Unigiana e io vedo Raffaella Mariani dico insieme alla Garfagnana potremmo ragionare per poter essere in questa partita uniti noi siamo già uniti con il progetto delle aree interne e da questo punto di vista stiamo facendo un ottimo lavoro per cui sicuramente anche quello delle green community ci può dare e possiamo darci vicendevolmente supporto anche nei confronti della regione ma anche nei confronti del ministero perché questi finanziamenti poi delle green community se non vado in rata arrivano direttamente dal ministero per cui l'obiettivo che ci siamo dati è questo insomma è quello di essere il più possibile uniti in questa nostra avventura e cercare di fare squadra ho trovato grandissima devo dire disponibilità da parte di tutti i miei colleghi sindaci qua della Lunigiana perché l'argomento chiaramente interessa tantissimo e per cui non vedo grandi ostacoli da questo punto di vista mi auguro che ci sia ma sono anche convinto di questo una risposta anche da parte dei cittadini dell'associazionismo delle attività che ci sono sul territorio per poi veramente creare queste green community che porteranno dei risultati su tutto il territorio per cui noi siamo sono ben contento che oggi sono stato invitato a questa riunione mi scuso perché purtroppo avevo anche altri impegni ora ho la giunta dell'unione dei comuni per cui vi dovrò lasciare però è stata molto interessante è un argomento sul quale dobbiamo veramente stare sul pezzo perché le novità sono tante e anche noi come amministratori stiamo cercando di capire quella che può essere la soluzione migliore per i nostri territori però ripeto c'è disponibilità da parte di tutte le amministrazioni e l'unione in questo senso fa un po' da capofila mi auguro che dall'altra parte ma con Raffaella ci sarà modo di ragionare in questo senso ci possa essere collaborazione perché possiamo fare ancora di più un so grazie grazie sindaco e un saluto a tutti arrivederci grazie arrivederci ciao qualcun altro se no sono le 5 e 7 minuti quindi se non c'è nessun altro intervento direi di chiudere il tavolo non so se la vicepresidente Mariani di carne al fuoco ne abbiamo messa vero abbiamo fatto ci siamo chiariti le idee più o meno era il primo passaggio d'altronde avevamo detto di valutare mi sembra utile anche il suggerimento che aveva dato Valerio Fioravanti cioè oltre mettiamo anche a sistema quello che c'è già quello che ciascuno ha predisposto perché abbiamo bisogno anche di un'analisi che anche i nostri consulenti se potranno ampliare le loro conoscenze dei nostri territori saranno sicuramente più attrezzati per farci anche delle proposte più concrete quindi io vi ringrazio mi sembra che l'Unione sia stata molto utile e potremo andare avanti ciascuno di noi intanto perfeziona anche quello che hanno fatto le reciproche regioni perché anche questo tema poi lo raffrontiamo la prossima volta delle green community è molto più vasto fa riferimento a una legge del 2015 insomma ci sono tante cose che possiamo unire c'è una discussione molto forte anche con la comunità scientifica che si sta gettando diciamo su questi argomenti facendo proposte quindi a noi rimane anche la necessità come dice sempre Fausto di essere anche un po' concreti perché poi più si amplia più ci si disperde mentre in questo momento l'idea di avere anche dei progetti già strutturati ci faciliterà nel momento che appunto ci saranno le opportunità dei bandi e delle leggi che avverranno anche dalle nostre regioni quindi buon lavoro e sentiamoci presto non so se Anna deve aggiungere qualcosa Anna volevo solo magari darci già un appuntamento nel senso che il nostro progetto avete visto ha delle fasi ben precise delle attività definite che arriveranno prima dell'estate appunto ad avere dei risultati che pensiamo possano essere utili appunto non solo per il territorio del parco che ha preso questa iniziativa ma anche in modo allargato al territorio della riserva della biosfera come peraltro credo sia stata anche la riunione di oggi insomma un'occasione per allargare questi discorsi a tutti i territori della riserva della biosfera per cui non lo so con che frequenza normalmente organizzate questi tavoli di lavoro però potrebbe essere magari che su questo tema immaginiamo già di rivederci a inizio luglio a metà luglio quindi forse già questo potrebbe essere un appuntamento per tenere il filo rosso di questi discorsi va bene vi do allora a questo punto un'indicazione tecnica a noi questo è il terzo ultimo tavolo di lavoro di quelli post assemblea quindi noi per la metà di maggio lasciamo finiamo ecco quindi con questa prima serie di tavoli di lavoro di conoscenza quindi poi si può approfondire quando volete su questi temi specifici che hanno la necessità poi di avere un termine entro diciamo settembre di rivederci in forma intermedia organizzata eh facciamo così scusatemi mi intrometto magari quando uscirà il bando PNRR sarebbe forse utile per tutti fare un confronto così non credo voi sapete che cioè io mi informo continuamente però non mi sembra di capire cioè non ci sono ancora notizie sui tempi ecco io sapevo di novembre novembre settimana anche su quello comunità energetica perché dopo tutto quello che è accaduto sembrava che il ministro il giorno dopo intanto presentasse un decreto facesse un mando anche stamattina io prima di intervenire ho detto ci sono notizie ho scritto degli amici a Roma ancora nulla quindi vediamo magari può darsi che si acceleri anche alla luce di quello che sta accadendo se posso però sul sito di italiadomani.gov dove ci sono tutte le informazioni sul PNRR la data è gennaio 2023 ed è stabile ormai da tempo se non l'hanno cambiata stanotte quindi direi che quella è forse la data più probabile di sicuro però se posso dare un suggerimento come dire a quel momento lì cioè a gennaio 2023 sarebbe opportuno arrivare pronti certo poi il bando magari starà aperto non sappiamo quanto e quindi tutti cioè il Superbobus 2 è la vendetta questo qui è il centro di verbo è la vendetta come quello dei borghi se dovremmo lavorare tutti in quel momento lì non ce la faremo neanche a recuperare questi soldi che sono veramente tanti quindi al di là del nostro ruolo il consiglio è quello di attrezzarsi per tempo volentieri sì penso anch'io va bene rimaniamo così allora allora ci salutiamo qui con appunto verrete informati per tempo dei prossimi appuntamenti delle prossime fasi insomma ecco così non perdiamo il silo del discorso e alla prossima quindi grazie di essere intervenuti verrete aggiornati sugli sviluppi di questo tavolo e su tutto il resto insomma anche su quello che succede oltre questo tavolo grazie grazie della partecipazione e arrivederci a tutti arrivederci grazie ciao grazie grazie a tutti arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti